bella a tutti i ragazzi e ben ritrovati in un nuovo gameplay di pag mobile oggi siamo nella weekend in una partitella notturna e abbiamo con noi awak 99 buonasera marco fk che è morto e poter saluti ma che brutto con il buio dai cili ha saluto i followers ciao ne followers con un duro in passi sotto di me è sotto di me comunque ragazzi io sono sopra il tetto come come un fagiano come un bufo una becina bravo poter bravissimo e colapsi grazie era quello lì posto cercando anch'io caputana magari niente vi eravamo giro ho trovato la flair ok bravo ecco io non li vedo sono dei pippi non iniziamo a rompere i coglioni e bot commissario winchester anche devo andare a sparare la flair ho trovato un altro non ci credo chi è che ha più culo che anima chi è non la trovavo dal cretaceo arrivo che andiamo a sparare le due flair sono pronto canela certo ci sono 90 chilometri non vedo nessuno però eh esatto esatto vabbè che tanto non li c'entro comunque però vabbè bella arrivederci intanto faccio queste case metto con la macchina per la fuga spara un po' dell'unce dalle case perché a me mi fide mie di queste case che le due c'è una macchina dietro e sta arrivando gente la macchina là però gli sparano da più in là da là li sparano ecco c'è un botto di gente ragazzi siamo fottuti madò giochiamo il tiro al piccione finché restano là non è un problema ma il problema è che mi sono venuta qua e uno sta tornando qua vado a vedere l'altra cosa via avm qualcuno lo prenda potrei prendi l'avm ti ho preso sui colpi io intanto nessuno vuole l'avm ecco ecco ok sono coperto faccio non andarla a ivan che cazzo ne so ho detto il lento o me ma sparo ok vieni qua vieni qua vieni qua dietro qua dietro vieni ivan ah li ho visti qua gli ivan ivan anzi anzi ivan io sto qui non mi muovo più vaffanculo stagli di che entro io entro io tranqua sono giù vieni qua ivan vai ivan sono qui sotto di te vai 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 passi no ma perché mi sparate perché mi sparate sono fuori safe loro eh ho finito il colpo anche io sono fuori safe anche noi noi no hai preso la vm ehm ci ho provato ma arrivano eh questi qua da dietro adesso ma non c'è un muletto qua fuori sì c'è gente via 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 da qua siamo sposte siamo troppi qua sono lì a 2.15 eh sono qua dietro ce n'è uno qua fuori non c'è più buono grazie scusate ragazzi macchina si sente qua uccidete l'entanto che è noc dai sotto fuori sì ma io voglio uscirlo qua io non mi sento protetto passi dietro di noi ragazzi sono qua sono qui m2 contro m2 49 sono dietro di noi eh c'è altra gente c'è altra gente grazie per la kill che mi aveva fatta c'è ancora uno qua dietro eh dopo quella numero 2 49 ve lo prelevo volentieri sì sì vai vai non ce n'è neanche uno mi devo prendere un po' di colpi è nel drop lì più avanti è qua uno perfetto te li do io i colpi qualcuno ha un paio di colpi verdi parano no 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 oh prendiamo la macchina ragazzi andiamo eh ah va questo qui non va un po' presi presi tutti oh vai 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 prendi la macchina andiamo in safe vai 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 a canella a canella prendi su Pote dopo scappa eh Pote salta su vai guida vai vai Pote oh no 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 tranqula tranqula vai 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 turba 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 mamma mia guardate quanta vita ho guarda quanta vita ho mamma mia i vancuni uso le vende cambiare cambiare direttamente luogo cambiare direttamente non era impossibile ma siamo riusciti a scappare mica ma guarda che ci avevamo tutti contro eh mamma mia che frenata no no Pote che se ti schianti ma si aspettasse no lui no eh non passare di qua è passato tutto esterno che stavo andando verso di loro adesso no 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 madonna guarda le comiche facciamo un salto facciamo un salto buono due ruote eh io vorrei trovare no nel senso andiamo sul tetto della chiesa un SKS ah si passi parta me passi parta me che cazzo vuole il mio cazzo non andate di qua eh non andate qua eh beh è venuto nel nostro mondo eh non so se sono andati sopra il tetto però dai vi fissito andami I coglioni play, Katie Che inculata l'abbiamo oh oh cosa cazzo oh sienteann c'è altra gente ormico schista cosa i coglioni dove c'è altra gente non lo so sono io sono io sono io c см E' in cima, porco di... C'è un'intera... Ma che cazzo... Arrivo, eh. Se venite qui, vedete? E' in piedi proprio. Vado a prendere il mio. Ah, ci sei già te, Pude? Qual'è che ha il tetto? Sta arrivando da noi. Ma fatti i corsi. Occhio a una granata, Ivan, che te l'ha lanciata adesso. Che video... Che brutto posto, sinceramente, che è questo. Gli scavo a occhio i muri, perché sono pro. Ah, no. Olio cuore. Possibile gente, eh. Per forza dobbiamo andare in quella casa lì. Gente! Ho c'è lì, c'è ne uno. Dove? Oh, ecco. Tranquillo. Ma, grazie. Certo. Ma non mi sono... Non mi sono... Non mi sono... Non mi sono neanche reso conto. Non mi sono neanche reso. Ma ce ne vedi se ne guarda. Ho visto un po' di più. C'è gente, c'è una persona, ragazzi. Ecco, lo sapevo, ma che... Che merda che sei. Sei una merda umana, Fede. Che merda umana. Ci saranno i suoi amici, eh. Gli ho lasciato uno spunto di vita. Non so. E' saltato giù dietro quella casetta lì che ho segnato io. A destra o segni è saltato giù? A destra. Dietro ed è saltato giù. Listo. Ma donna, non può avere speranze. Ti vuoi? No, non è la mia macchina. Aveva la UG. Vedo una persona. Adesso ve la spotto. No, non ve la spotto. Al drop. Al drop. Io non vedo il drop. Due persone. Cazzo è il drop. No, l'ho mancato. Tre. Sono i tre. Perché hanno smoccato, scusatemi? Perché hanno smoccato il loro amicolo. Ma sono loro contro noi, eh. No, c'è altre gente. Cosa significa? Cosa? Capodanno a Napoli. Due M2 49 spianati là in mezzo. Adesso siamo noi contro i loro due. Adesso sì. E adesso facciamo Napoli. Adesso creiamo Napoli. Aspetta, aspetta. C'è solo 92 colpi nel caricatore. Un secondo. Che carico. Solo 92 e niente di che. Vai. Aspetta, aspetta un attimo. Io ho lanciato un po' di granata. Sta lanciando tutto ciò che Anna lì. Eh, granate. Ok, le smoke non erano mie, però. Capodanno? Pronto, Fede? Aspetta che vado nel fumo. Curiamo spianati. Capodanno, eh. Ma, Poto, dove c'hai? Non mi sono qua indietro. Tre. Non mi sono qua indietro ad osservare. Uno. Capodanno, Fede. Ma che cazzo sono tutti? Scusami. Cioè, non per dire. Adesso. Un attimo che ricarico Capodanno, ricarico. Un attimo, eh? Eh, anche io. Mi sto anche curando. Che miseria. Preparate che dopo facciamo Capodanno 2.0. Pronto? Cosimo Edition. Che zitto che magari guardo il video. Madonna che capodanno, ragazzi miei. Che capodanno. Capodanno col botto. Festeggiamo, Cava. Ma tanto non si sentono i colpi. Ah, niente. Boom su tutto. E mi do fuoco, oddio. E mi do fuoco, oddio.